Inter-Liverpool 0-2, una sconfitta che brucia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Immeritata secondo me non è esattamente il termine giusto perché nel calcio vince chi segna, vince chi fa più gol dell'avversario. E se l'Inter non segna e il Liverpool sì, non è secondo me del tutto corretto dire che si è trattata di una sconfitta immeritata. Di sicuro posso dire però che almeno io personalmente non riesco ad essere arrabbiato per questa sconfitta. Deluso sì, ma non arrabbiato. Questo è un po' il mio sentimento oggi che vi porto all'interno di questo contenuto in cui voglio esprimervi un po' delle mie opinioni più a freddo, più a mente fredda, visto che abbiamo già parlato molto nel post partita, voglio aggiungere ora oggi, dopo qualche ora appunto da questa partita, alcune considerazioni in forma molto sparsa per andare poi alle pagelle con il nostro tier maker e parlare poi delle prestazioni dei singoli. Allora, io personalmente mi sono approcciato a questa partita con l'aspettativa di vedere in campo un Inter in grado di giocarsela, in grado soprattutto di farlo magari senza stravolgersi, quindi giocando alla sua maniera e di fatto è stato così contro una squadra che chiaramente è candidata alla vittoria finale di questa Champions League. Una squadra che due anni fa, mentre noi uscivamo ai gironi, vinceva la Champions, giusto per chiarire un attimino il livello, per chiarire un attimino la differenza che c'è tra queste due squadre e qualcuno al momento mi sembra che lo stia ignorando, loro sono al quinto ottavo di finale giocato negli ultimi cinque anni, noi siamo al primo negli ultimi dieci anni, questo qualcosina vorrà dire. Ma a parte questo discorso, perché chiaramente la storia non va in campo da questo punto di vista, ci vanno le squadre, e che cosa è successo in campo, almeno secondo me? Fino al primo gol del Liverpool per me l'Inter è stata una buona Inter, sicuramente a fratti anche addirittura dominante, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, un Inter che ha corso i giusti pericoli, perché chiaramente chiudere contro il Liverpool senza subire mai rischi, senza avere mai dei brividi in difesa, sarebbe stato un'utopia, ma l'Inter ha saputo gestire i rischi, ha saputo concedere il giusto al Liverpool e ha dato poi una dimostrazione di carattere e di buon gioco senza snaturarsi appunto. Poi che cosa è successo? Da un lato l'Inter non segna, lo sappiamo, un po' per mancanza di precisione sottoporta nell'ultimo passaggio nei cross, un po' anche perché non tiriamo mai di fatto, chi segue le nostre dirette sa quanto mi accanisco su questa cosa, l'Inter sembra che voglia entrare col pallone in porta, un po' va anche detto, vanno dati meriti all'avversario. Dall'altra parte abbiamo trovato Conate e Van Dijk, che nella loro difesa sono stati bravissimi, a tratti anche dominanti con degli interventi preziosissimi proprio all'ultimo. Dall'altra parte è vero che le sostituzioni nel Liverpool hanno dato loro energie fresche, sono entrati i giocatori per un valore complessivo superiore ai 100 milioni di euro, investimenti pesantissimi che hanno fatto in questi anni il Liverpool chiaramente, però è vero anche che il Liverpool ha segnato su due calci piazzati e quindi dove in teoria noi saremmo molto forti, sono riusciti a coglierci impreparati, hanno approfittato di nostri cali di tensione, di errori individuali, quindi anche questa è una cosa che ci fa maggiormente aumentare la delusione. Ecco, in sette minuti di fatto abbiamo compromesso un po' il tutto. Però, a proposito del discorso panchina, faccio anche una precisazione rispetto anche a quello che è stato detto poi nel post partita. Il Liverpool non si può negare, ha una qualità media e anche complessiva ovviamente molto superiore a quest'Inter, comunque superiore a quest'Inter. È normale che sia così, visto da quanto è aperto il loro ciclo con Klopp e anche vista la differenza di potenza economica che c'è tra la Serie A e un top club di Premier League. Però, ragazzi, io devo dire anche che l'Inter non ha pagato, secondo me, la scarsa panchina, la scarsa profondità di Rosa. Ha pagato più che altro le assenze, perché se vogliamo essere sinceri, mi spiego meglio, un Inter al completo, probabilmente, avrebbe schierato Barella titolare al centro del campo, in panchina avrebbe avuto un Arturo Vidal, che poi nei fatti è stato tra i migliori in campo in assoluto in questa partita, avrebbe avuto a disposizione per cambiare a gara in corso anche Alexis Sanchez, avrebbe avuto Correa, avrebbe avuto Gossens, ci sarebbe stato poi Darmian, Caicedo. Quindi, è vero che con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, ma, oltre ad avertela giocata in queste condizioni qui, per 72 minuti alla pari e per alcuni tratti dominando contro il Liverpool, con una rosa al completo, probabilmente sareste riuscito a tirar fuori anche qualcosina in più, nonostante, appunto, la sconfinata forza a livello anche di alternative che ha a disposizione il Liverpool. Questo io lo prendo sempre come un possibile buon segnale, anche per la prosecuzione del campionato, e poi, ovviamente, anche per la prossima stagione. Poi, è ovvio che il problema dell'attacco che non segna è grave, va risolto, è ovvio che da tifosi ci aspettiamo sempre la vittoria e accettare una sconfitta è dura. È vero anche che in alcune situazioni ci aspettiamo magari, dal mister Simonin Zavi, anche qualche sostituzione, qualche cambio differente, qualche invenzione nuova, anziché il, tra virgolette, solito cambio ruolo per ruolo. Però, se cerchiamo un attimino di staccarci dal risultato, di mettere da parte l'emozionalità, diciamo così, del momento, non ci limitiamo a commentare solo il risultato, addirittura a commentare soltanto le statistiche, perché stamattina vedo tantissimi scrivere, eh, però abbiamo fatto zero tiri in porta, come fai a parlare di buona partita con zero tiri in porta? Io capisco che la moda del momento è TikTok, quindi guardare una partita per intero, rimanere concentrati su tutti i novanta minuti, è pesante, è difficile. Però, ragazzi, le statistiche veramente non dicono tutto, anzi, anzi, la partita ha detto un'altra cosa, e anche perché non mi puoi dire zero tiri in porta, se poi Ceranoglu colpisce la traversa, quello non è un tiri in porta, assolutamente sì. Tra l'altro, l'Inter con la traversa di Ceranoglu ha colpito cinque pali in questa Champions League, è record, nessun'altra squadra ha colpito così tanti legni in questa competizione quest'anno, quindi anche un pizzico di sfortuna vogliamo mettercela, ma comunque io cerco sempre di guardare la metà piena del bicchiere e intravedo in questo bicchiere un Inzaghi, che comunque ha preparato molto bene la partita e ha permesso alla squadra di neutralizzare giocatori come Salah e Manet che alla vigilia dovevano distruggerci da quello che leggevo in giro. Tanti giocatori hanno dimostrato di poter stare a questo livello, secondo me, dei nostri. Tra le altre cose, butto lì anche una battuta a tal proposito, economicamente l'Inter ha anche guadagnato un qualcosina, perché ieri, dopo questa partita, sicuramente Skriniar, ma anche Dunfriss o anche Ceranoglu valgono qualcosina in più al livello di mercato. È chiaramente una battuta, prendetela così. Un'ultima considerazione, poi andiamo alle pagelle, la volevo fare poi anche sull'arbitro, perché secondo me sia stata una gran bella partita, un gran bel ottavo di finale di andata di Champions League, e anche grazie all'arbitro Marciniak, mancano un paio di cartellini, secondo me qualche piccolo cartellino in più ci sarebbe stato, visto che non ha estratto nemmeno un giallo, però ragazzi quanto è bello finalmente godersi una partita senza tuffi, senza simulazioni, senza interruzioni continue. Quanto è bello godersi una bella partita di calcio con un arbitro che fa giocare, e questa cosa mi mancherà molto nel campionato italiano. Detto questo, andiamo a vedere le pagelle dei singoli con i nostri giudizi nel tier maker. Eccoci qua, metto più in alto, andiamo a vedere il tier maker diviso in cinque categorie, MVP, top, ok, rimandato e flop. Partiamo subito con Samir Andanovic, sono ragazzi giudizi miei estremamente personali, quindi liberi ognuno di commentare con la propria opinione, chiaramente nel rispetto della community. Su Andanovic, mi dilungo un attimino su di lui, solo per dire che ci sono due fazioni sempre su Andanovic, chi lo incolperebbe pure di essere colpevole dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e chi invece lo difende a spada tratta e Andanovic non si può toccare. Io non faccio parte né dell'una né dell'altra fazione, mi limito a giudicare quello che vedo nella singola partita e limitandomi a questa partita, che cosa ho visto? Ho visto un Andanovic che sinceramente a me non dà più sicurezze. Io dall'Inter a questi livelli, da tutti i giocatori dell'Inter a questi livelli, in queste partite qui, mi aspetto che diano qualcosina in più, cosa che hanno fatto altri, di cui andiamo a parlare tra poco, secondo me Andanovic ieri non ha dato quel qualcosina in più, anzi sul gol di Firmino ha fatto un gran gol, è stato anche un po' fortunato Firmino, ma io vedo un Andanovic che fa quel passettino per andare da Brozovic che stava marcando benissimo il primo palo e questo lo mette in controtempo per andare a chiudere sul secondo e quindi prende il gol. Anche sul gol di Salah, non lo so, è stato un po' sfortunato, situazione rocambolesca eccetera, però ecco il pallone di Salah va a finire proprio estremamente centrale. Quindi mi dispiace, ma io Andanovic oggi lo metto nei rimandati e questo chiaramente non cancella le altre partite in cui quando ha fatto bene l'ho detto. Milan Skriner, ragazzi, monumentale ieri Skriner. Io Skriner sarebbe da top, ma lo metto sicuramente negli MVP, dove oggi voglio mettere più di un giocatore, mi prendo la libertà di mettere più di un giocatore ad un livello altissimo, perché Skriner ha fatto una prestazione, secondo me, ai limiti della perfezione, molto molto buona, nonostante accanto un defray con qualche piccola amnesia ogni tanto, comunque ha retto la grandissima, poi c'è stata una chiusura sul Luis Diaz nel finale, che è diventato un po' il marchio di fabbrica di Milan Skriner, proprio all'ingresso e all'area di rigore, che però, ecco, io cercherò di mettermela come screensaver del computer, perché è veramente clamorosa. Grande, grande prestazione di Milan Skriner. Stefan Defray, Defray ieri io lo metto rapidamente su ok, perché ha subito questo colpo alla testa, ha avuto qualche piccola sbavatura qui e là, ma poi la prestazione è stata consistente, non mi è assolutamente dispiaciuta. Bastoni, Bastoni ha fatto una buonissima partita, ho visto qualcuno lo ha bocciato, sono un po' indeciso su di lui, perché di fatto con Mané il duello ha retto benissimo, dalla sua parte non abbiamo corso troppi pericoli, però purtroppo credo di metterlo nel rimandato, perché poi in fin dei conti il gol arriva anche perché è stato anticipato da Firmino sul colpo di testa, dove dovremmo dominare, quindi mi dispiace, lo metto nel rimandato, ma è un 6 meno, non un 5 sicuramente per Bastoni, secondo me, perché purtroppo l'episodio secondo me incide poi all'interno della partita, sblocca la partita e ci fa uscire di gara. Denzel Dumfries, altro giocatore da prestazione veramente, veramente top, sono indeciso tra top ed MVP sinceramente, ma prestazione veramente dominante su quella fascia, temevamo le corsie del Liverpool, invece probabilmente abbiamo creato più pericoli noi, con i nostri esterni che loro con Alexander Arnold e Robertson, altra ennesima dimostrazione di come Dumfries sia un giocatore di alto profilo, di alto livello, sta crescendo anche in consapevolezza e soprattutto mi dà l'impressione che in questo momento fa sempre la scelta giusta e questo non è mai, non è assolutamente banale, lo metto col top ma in maniera abbastanza alta, abbastanza alta, diciamo così. Arturo Vidal, anche lui secondo me prestazione top, assolutamente, anche qui prima della partita tutti quanti dicevano Vidal verrà distrutto dagli avversari, non toccherà un pallone, farà una figuraccia, e invece pronti via, grande grinta, grande garra, ha dato praticamente tutto, è chiaro che da lui ci si aspetta che faccia questo in più partite, in più occasioni, non sempre è così purtroppo, però io oggi limito la mia analisi a questa partita, in questa partita non si può dire nulla assolutamente ad Arturo Vidal, che a tratti ha anche dominato lì in mezzo al campo. Meno bene secondo me Marcello Brozovic, non credo sia da mettere nei rimandati, lo metto sull'ok, perché diciamo che non è forse, o comunque i ritmi che si può permettere in Serie A, non se li può permettere contro il Liverpool, nella gestione del pallone lì davanti alla difesa, non è una prestazione insufficiente, però ecco non è stata la miglior versione di Marcello Brozovic, mentre sono favorevolmente molto molto sorpreso da Akan Ciaranoglu, ragazzi devo dire faccio una piccola ammenda, nel senso che io ho sempre creduto in Ciaranoglu, è anche nella mia squadra del Fanta Passione Intra, ci credo fortemente, e sono molto contento della grande stagione che sta facendo, però il mio ultimo dubbio che mi rimaneva su Ciaranoglu, era buonissimo giocatore, in un contesto come l'Inter sta facendo molto bene, ok per la Serie A, poi in Champions League quando andiamo ad affrontare il Liverpool, come se la cava? Ragazzi, ieri qualcuno ha detto addirittura ad un certo punto è uscito dal campo, ma in realtà secondo me ieri Ciaranoglu è stato quasi il migliore in campo, quasi il migliore in campo, al di là della traversa ha fatto un recupero in difesa veramente impressionante, grande grande prestazione di Akan Ciaranoglu, che si è dimostrato validissimo anche a questi livelli top, però il migliore in campo è chiaramente Ivan Perisic secondo me, MVP assoluto Ivan Perisic, ragazzi, spendo solo due parole su di lui, perché in questo momento è di fatto il giocatore più forte in assoluto di questa Inter, in questo momento Ivan Perisic è il leader tecnico e carismatico di quest'Inter, e non possiamo che fargli gli applausi, perché dall'altra parte c'era Alexander Arnold, quello che è stato eletto poche settimane fa, migliore esterno al mondo, e io direi che Perisic stanotte Alexander Arnold se lo ha sognato secondo me, perché veramente nell'uno contro uno devastante, gli è mancato quel pitico di precisione in più nell'ultimo passaggio, avrebbe potuto pescare Lautaro Martinez da solo davanti ad Alisson, e poteva essere un'azione decisiva per la partita, però ecco, più di questo, possiamo chiedere di più ad altri, ecco, prima che a Perisic, come ad esempio ad Edin Dzeko, un Edin Dzeko che io metto negli ok, sono un po' in dubbio, nel senso che la prestazione di Edin non è stata, anzi, io lo metto nei rimandati, sinceramente, lo metto nei rimandati perché è un giocatore che per Inzaghi è fondamentale, è vero, però ieri questa sua importanza si è vista solo a tratti, e in alcuni momenti purtroppo è mancato il killer instinct, che sappiamo benissimo, non è la sua principale caratteristica, però in queste occasioni, a questi livelli, per giustificare la tua importanza, la tua presenza a 90 minuti su 90 in ogni partita, secondo me, devi avere anche un po' di killer instinct e qualcosina in più, dal punto di vista della finalizzazione, devi fare, purtroppo ci sono delle scelte, delle occasioni che secondo me pesano all'interno della valutazione, della prestazione di Edin Dzeko, che quindi vado a mettere nei rimandati, fatemi sapere se siete d'accordo, arriviamo poi alla nota dolente, Lautaro Martinez, uno di quelli che farà sicuramente molto molto discutere, io ragazzi qui faccio un distingo, io lo so che mi attirerò delle critiche, però per me la prestazione di Lautaro Martinez è stata sufficiente, come prestazione globale e complessiva, una prestazione in cui si è dato molto da fare, quando ha avuto l'opportunità è andato alla conclusione, e ha creato il primo pericolo alla porta del Liverpool, ha recuperato un buon numero di palloni in zona offensiva, permettendo all'Inter di ripartire con pericolosità, quindi la prestazione, io continuo a vedere dei segnali di Lautaro Martinez, di un giocatore che si dà da fare e che non è fuori, diciamo così, dal contesto Inter. Poi però è chiaro che dall'attaccante, dal giocatore tra i più pagati della rosa, da quello che dovrebbe essere appunto il tuo centravanti, ti aspetti qualcosina in più, e in queste partite, come dicevo, anche per Andanovic, mi aspetto chiaramente anche il gol. Quindi, se giocatori come Ciaranoglu hanno tirato fuori quel qualcosina in più, andando ad un passo dal gol, e meritano anche l'elogio da questo punto di vista, Lautaro Martinez purtroppo sta vivendo un brutto momento, non ha segnato mai in questa Champions League, non ha servito assist, purtroppo questo non può non pesare all'interno della valutazione. Quindi lo metto nei rimandati, però la prestazione di Lautaro a me, personalmente, è piaciuta più di quella di Edin Dzeko, ve lo dico proprio sinceramente. Chiudiamo poi con Alexis Sanchez, per me Alexis non è entrato bene, e lo metto nei rimandati, non è colpa sua, è entrato lui, l'Inter ha preso gol, chiaramente non è colpa sua, però non lo so, io questo continua sostituzione Lautaro per Sanchez, Sanchez per Lautaro, non mi convince troppo, proverei anche qualche variante, qualche alternativa. Per il resto, gli altri giocatori subentrati da Darmian a Ranocchia a Gagliardini, sinceramente li metterei senza voto, perché non hanno avuto modo di scendere in campo e di incidere. Fatemi sapere se siete d'accordo con le mie valutazioni, mentre io chiudo con un'ultimissima considerazione personale. L'unica cosa che mi preoccupa realmente dopo questa partita, oltre purtroppo a questa mancanza di gol, che però secondo me si risolverà in campionato, la cosa che mi preoccupa in questo momento, in vista della prossima sfida contro il Sassuolo, che è un avversario temibile, e da tenere sott'occhio sicuramente, mi preoccupa solo lo spreco di energie, soprattutto mentali, perché l'Inter ha speso tantissimo. L'Inter arrivava a questa gara contro il Liverpool da un mese e mezzo assurdo, veramente assurdo, e secondo me questo mese e mezzo sta anche un po' diciamo, annebbiando il giudizio dei tifosi, perché molti non si rendono conto che in realtà l'Inter, comunque bene o male, è arrivata in semifinale di Coppa Italia, è vero che in campionato ha perso la testa della classifica, ma nelle ultime cinque partite l'Inter ha fatto otto punti, il Milan ne ha fatti dieci, non è che ne abbiano fatti ventuno, i rossoneri, quindi stiamo tenendo, siamo lì, però mentalmente siamo stati veramente spremuti, quindi questo in vista del Sassuolo un po' mi preoccupa, l'Inter chiaramente ora concentrerà i suoi sforzi sul campionato e sulla Coppa Italia, per cui spero in una bella reazione già da domenica, anche se non sarà semplicissimo, poi al ritorno ad Anfield ragazzi vedremo, sappiamo che sarà una gara difficilissima, servono due gol di scarto per andare ai supplementari, tre per vincere e volare ai quarti di finale, molto difficile, però chissà, magari riesci a segnare dopo cinque minuti e riapri tutto, per cui crediamoci, fatemi sapere anche un po' le vostre sensazioni, mi raccomando, lasciatemi nei commenti, se mi avete seguito fino a qui, l'emoji del trofeo, facciamo, visto che abbiamo parlato di Champions, anzi quando parliamo di Champions, anzi mettiamo l'emoji del trofeo, se volete potete sostenerci tramite gli abbonamenti, durante la diretta di Inter Liverpool, siete stati tantissimi ad abbonarvi, a sostenerci con la super chat, quindi vi ringrazio davvero per il grande sostegno che ci state dando, vi ricordo poi che ci vediamo in diretta, come ogni giorno alle 19.